L'Olimpiagnonese torna in campo. Il calendario vede il recupero della sesta giornata contro la Vastese. Match inizialmente in programma domenica 1 novembre, a quasi un mese dall'ultima partita ufficiale. Quella pareggiata 1-1 nel derby contro il Vasto Girardi. Mister Senigallesi durante questa sosta ha potuto lavorare col gruppo e testare le sue idee tattiche da sfruttare in partita. La classifica piange, un solo punto conquistato. Bisogna cercare assolutamente il primo successo stagionale, ma non sarà facile perché la Vastese fa dell'Aragone il suo fortino dove costruire il proprio campionato. Tornando all'accampo, grossomodo dovrebbe essere confermato l'undici che ha ben figurato nel derby. In porta ha confermato Mario Landi. Linea difensiva composta da Cecci, Malvan, Bilello e Sgambati, con l'Itterio pronto a giocarsi una maglia per il ruolo di centrale. Centrocampo guidato da Maniscarchi, con ai lati Malfella e Chiavazzo. Antonio Del Gaudo ha girato il 2 di punta, Mbuba o Bleac. Di conto ci sarà una Vastese, come detto, agguerrita. I ragazzi di Mister Silvia cercano il secondo successo consecutivo dopo l'1-0 al Pineto, datato 18 ottobre. Per gli abruzzesi sono due le gare da recuperare. Oltre a quella di domani, contro i molisani ci sarà la trasferta di Aprilia. Partita quindi delicata per gli altomolisani. Un risultato positivo darebbe tanto morale a tutto il team. Con fischio di iniso fissato alle 14.30, la raguna di Vasto, Vastese, Olimpia Annonese, è stata affidata al signor Paolo Grieco della sezione di Ascoli Piceno, coadjuvato dagli assistenti di linea Valerio Brizzi di Aprilia e Simone Giuliano di Siena.